Ancora una volta ben trovati ormai a ridosso delle vacanze per chi le fa un altro appuntamento con Mr. Gadget sempre ospite degli studi di Radio Number One che ospita anche la versione radiofonica di Mr. Gadget ogni domenica a partire da mezzogiorno oppure anche in formato podcast su iTunes. Allora prima di abbandonare periferi un prodotto che in realtà è in circolazione già da un po' io non ho mai molta fretta nell'andare a testare i prodotti e soprattutto una volta che i prodotti arrivano per la fase di test non ho mai molta fretta di girare video ma voglio prima testare fino in fondo per dirvi esattamente cosa ne penso. Vi faccio vedere intanto quello che succede e che trovate soprattutto nella confezione di questo LG 4X HD diciamo che è arrivato con un'accoglienza un po' tiepidina forse in realtà questo è uno dei telefoni della famiglia dei quad core insieme all'HTC One X e al Samsung Galaxy S3 però diciamo che rispetto a tutto l'hype che c'era sul Galaxy S3 questo è stato accorto in modo abbastanza freddino. Vediamo intanto cosa ha la confezione. Ovviamente il telefono che nel frattempo provvediamo ad accendere ci sono il classico cavo per la connessione, c'è una cuffietta e il travel adapter che ormai vedete sono più o meno tutti alla stessa dimensione. Questo ricorda forse un po' la forma di quello di HTC però essenzialmente si risparmia anche sul cavo. Prima si metteva un caricabatterie con il cavo attaccato invece adesso semplicemente con l'uscita per il cavo che poi viene utilizzato per la connessione dati. Per quanto riguarda poi, mi stavo guardando, ah c'è un'etichetta anche NFC inserita nella confezione questo tag NFC può essere utile proprio perché avendo la funzione NFC a bordo c'è la possibilità di avvicinare il telefono a questo tag e attivare una serie di funzioni a proprio piacimento come funziona per gli smart tags di Xperia e quindi di Sony. Vediamo anche la differenza di dimensioni per quanto riguarda il nuovo LG 4X HD. Vedete che insomma più o meno siamo nella famiglia degli esagerati, di quelli che devono avere uno schermo modello padellone per riuscire a svolgere tutte le loro funzioni. Fa quasi tenerezza, vedete qui insomma vediamo anche accanto uno all'altro così vediamo un po' anche quello che è l'impatto del display questi tre telefoni. Fa un po' tenerezza vedere oggi un altro prodotto, vedete questi insomma questi super schermoni giganti, se si levano, questi è la famiglia quad core e si mette di fianco un iPhone 4S, insomma devo dire che il confronto fa quasi tenerezza, anche se vi farei notare io non ho toccato nulla, l'illuminazione è assolutamente automatica per i due prodotti guardate un po' che popò di illuminazione e di resa ha lo schermo dell'iPhone 4S rispetto a quello dell'LG. Ciò premesso, non ho ancora provato approfonditamente questo telefono quindi non so darvi ancora tutti i dettagli, vi faccio vedere intanto semplicemente che cosa vi aspetta nella confezione. Un prodotto con una linea molto semplice, il retro del telefono richiama altri prodotti LG che avevano sempre questa finta riproduzione della pelle sulla parte posteriore il volume rocker, lo chiamerei bilanciamento del volume ma qui c'è insomma qualcuno che si aspetta volume rocker e quindi il volume rocker da questa parte, sulla parte superiore pulsante di accensione secondo microfono e attacco per le cuffie da 3,5 mm che ormai è uno standard nulla da questa parte del telefono e sulla parte inferiore invece il connettore micro USB più l'aggancio per l'apertura della scheda. Sul retro fotocamera con flash LED e in questo punto l'altoparlante. Cosa c'è sotto la copertina? Intanto un attacco per una scheda micro SD la sorpresa principale è il fatto che la sim sia ancora una sim normale, una u sim ma in versione normale, strano perché insomma ormai quasi tutti i telefoni stanno scegliendo l'opzione della micro sim se non altro anche per una sorta di competizione diretta ad iPhone, proporre lo stesso tipo di format di sim dalla possibilità di uno scambio molto più facile ed immediato. Batteria molto interessante, stiamo parlando di una batteria, vado a memoria, ma 2100 o 2150, eccolo vedo qua, 2150 mAh e quindi una batteria che promette una autonomia notevole. Non è bellissimo dal punto di vista dell'estetica, bisogna essere sinceri, però c'è una caratteristica secondo me molto interessante che questo telefono è comunque di una velocità non indifferente. Ora non c'è nulla di collegato, però guardate la velocità di scorrimento tra le schermate e nel caso di apertura anche delle applicazioni. Non ho come detto adesso né connessioni attive neanche attraverso il wifi, quindi non sono in grado di mostrarvi velocemente il funzionamento di un'applicazione, anche perché sono praticamente tutte online, però vedete quasi tutte collegate all'online, però vedete che la velocità con cui le varie applicazioni vengono aperte in effetti è molto interessante. Nei prossimi giorni poi farò una prova molto più approfondita. Qui c'è ovviamente Ice Cream Sandwich a bordo, come detto il processore è quello, un quad core che devo dire risponde molto bene. Voglio provare a personalizzare un po' a cambiare magari un po' anche l'aspetto grafico, così a primo impatto una delle cose che non mi fanno impazzire ad esempio sono le scelte grafiche che LG fa per i suoi telefoni. Abbiamo visto come Samsung si è cambiata molto da questo punto di vista, non sia molto più vicina oggi allo stile di Apple, quindi di una grafica più pulita, una grafica anche più ricercata, un po' più sofisticata. Diciamo che da questo punto di vista LG e Sony rimangono forse un po' più, mi verrebbe da dire pataccone, ma sarebbe ingeneroso, cioè nel senso un po' meno ricercate nell'aspetto e nella cura della grafica che secondo me invece sono importanti. C'è un dato altrettanto importante che è il prezzo di questo telefono, entrando in un supermercato oggi trovereste il Galaxy S3 a 699 euro, non parlo di prezzi online, parlo di prezzi che trovate sugli scaffali dei supermercati. Entrando nello stesso identico negozio di elettronica potreste trovare questo telefono a 499 euro con funzioni che tutto sommato sono paragonabili l'una all'altra. Poi questo è un design, questo è un altro, questo è Samsung, questo è LG, c'è che qualcuno è malato di Samsung, qualcuno no, però guardandolo in modo molto distaccato questi due telefoni che hanno più o meno le stesse funzioni hanno 200 euro di differenza. Nei prossimi giorni cercheremo di capire se sono giustificati oppure no.